Ciao! Mi chiamo Ernestino! Questo è il mio amico Pino! Oh oh! Andiamo Pino! Yeah! Ciao Ernestino! Ciao Pino! Ciao! Che bella canna da pesca! E che zainetto pesante! Non ditemi che siete pronti a partire per una nuova ed incredibile avventura! Yeah! E dove andrete di bello questa volta? Non mi dirai che andrete a pescare nella lontana taiga siberiana, in Russia! È un posto immerso nella natura, pieno di laghi, boschi, montagne ed animali selvaggi, come il lupo grigio, l'alce e l'orso bruno! Allora, cosa stiamo aspettando? Oh oh! Partiamo! Urrà! Andiamo a pescare! Andiamo a pescare! Ciao! 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 ова